Assurdo, assurdo, allora sono sempre un uraga, ma fa un caldo esagerato, oggi era piovuto, e fa caldo e sicuramente oggi pioverà Allora, di che parliamo, di che parliamo, c'è oggi che tu bevrete a questo nuovo video Assurdo, un'altra bandiera, dopo Gigi Buffon se ne va dalla Juve Sì, perché da poco è uscita la notizia, perché Claudio Marchisa riuscisse il contratto E non è più un giocatore della Juve, in questo momento è disoccupato Allora, mamma mia, mi dispiace perché Marchisa dopo 25 anni, non ha giocato 25 anni nella Juve Ma comunque stava nella Juve anche i giovanili, i pulcini incluso, pure i pulcini, pure i polli, tutto quello Spalla! È stato sempre nella Juve, è stato sempre fedele ai colori bianconeri Negli ultimi anni non sta trovando troppo spazio, perché ovviamente come un portiere come Buffon Che è sempre forte, tanto importa, o se hai 37 anni, o se hai 30 anni, non ti cambia niente Diciamo, beh, Marchisio si sta facendo, non è di certo giovane E visto che non è giovane, ovviamente passa di moda nel centrocampo della Juventus Ora c'è Chetira, c'è Piani, c'hanno preso il Mecciano, vogliono prendere Pogba Quindi Marchisio non lo prendono più in considerazione Ho perso ha fatto pure un gol nell'amichevole a Villar Pelosa, Juventus, contro Juventus B, ha segnato pure Ovviamente Marchisio è rimasto, vedete, e si è rotto il cazzo e ha resciso il contratto E ora non è più un giocatore della Juventus Bah, la Juventus venente come cuore non si apprezzano proprio Se era il Napoli, se ero sicuro il Napoli lo faceva Eppure i Napoletani, gli striscioni, forza Claudio, forza queste cose qua, no? Per esempio quando Omsic, quando Sarri se ne, si diceva che se ne andava L'ultima, che caccia c'è qua? L'ultima giornata, quando dicevano che se ne doveva andare Gli striscioni dei Napoletani, Sarri non tiene andare, queste cose qua Gli Juventini invece sono un'altra cosa, noi siamo di altro livello In senso di calore e tifosi E quindi Marchisio, se ne va dalla Juventus, se non è ben accettato Bah, cioè io non riesco a capire, ma pure la società Invece di, povero guaggiori, invece di rinnovare il contratto a Marchisio Sfanculizzando il traditore, Bonucci no Mandano via Marchisio che si meriterebbe di più Perché è stata sempre la Juve, una bandiera, tutto E poi fanno ritornare Marchisio che, egli è Marchisio Fanno ritornare Bonucci che aveva, era passato come un traditore per Juve Quando è andato al Milan, non è ritornato, lo fanno ritornare Invece Marchisio lo cacciano fuori Bah, ma non avete un bitone dell'immondizia al posto del cuore Ma povero Claudio Claudio non ha mai vinto una Champions Pure lui in due anni, due finali di Champions in tre anni Non l'ha mai vinta Ma quindi se quest'anno la Juventus vince la Champions League Senza Buffon e Marchisio, che sono due colossi Ci manca solo che siano i macchiellini Ma che cazzo c'avete al posto del cuore? Un bitone dell'immondizia Quindi ora senza squadra non significa assolutamente che non lo prenderà nessuno Perché da poco è arrivato Ma io ne so, un Parma, un Empoli, un Frosinone Ci vorrebbe fare un pezzerino su Marchisio? Ma sai dopo, finalmente giocherebbe di tolare E poi almeno ora Marchisio farà vedere veramente il suo valore Dopo tanto tempo, che non è come il vino, più vecchio, più buone Ma fa la differenza se fa un Empoli, che ne so Salvezza assicurata con Marchisio Marchisio ha detto pure che vorrebbe andare a Parma Poi io non ho capito se la Juventus l'aveva voluto rinnovare O se Marchisio se l'aveva voluto andare Traditore Traditore il primo punto Non ha detto nessuno traditore Però comunque specifichiamo che non assolutamente traditore Perché non è andato nessuno a scuola Poi non ha scelto il contratto, si è rotto il cazzo con la Juventus Perché non si mette con la Madera e gioca poco E poi se se ne va, non va all'Inter, al Milan o al Napoli Ovviamente E fu così che andò al Napoli No, no, a che ci serve per chi si andò Che ne sono un Parma, mamma mia Ma che ne sono un Cagliari Squadre piccole di Serie A Non sa solo Sai che colpaccio che fanno Ma si rimane senza squadra Può essere che lo prendere Perché da poco ha riuscito il contratto Ma si rimane senza squadra Se prima c'è una piccola, ma piccola, ma piccolissima possibilità Che Marchisio Veniva convocato in nazionale Ora che non gioca, figuriamoci C'era possibilità di giocare in nazionale È come dire, gioca un pizzaiolo in nazionale Eppure se è Maradona, scusa Se non è preparato, se non gioca Se non gioca, se non gioca Che cazzo deve essere convocato Quindi se non lo prende nessuno Non so, vai in America, vai in Ciro Ma poi, troppo pre... Cioè, a me non sembra che c'ha qua 38 anni Quanti anni ha 31, 32, 33, 34? Quanti anni ha Marchisio? Bah, subito a cacciarlo via Perché non lo prendete più Ma manco un pelo in considerazione Una bandiera della Juve Bah Bah, bah, bah Beh Che devo dire? Avete un video che mi rende sempre sicuro Io sto perdendo tempo Perché dovevo dire una cosa Mi sono scordata Perciò non chiudi il video Perché sicuramente Quando chiuderò il video Mi ricorderò la cosa che dovevo dire Niente E' come che si è ritirato Ma mamma che capelli di merda Come che si è ritirato Commentate qui sotto Commentate Iscrivetevi Ciao Primo Secondo Iscrivetevi Antony1898 Che è il mio primo canale Pages Iscrivetevi E seguitemi Su Instagram E noi ci vediamo Dopo il prossimo Sette minuti di video Ciao